Ciao ragazzi, nuova avventura, si riescono a reggiare l'auto, perché qua a Camarale Lobos non ci sta una mazza e quindi devo tornare a Funcia a piedi e prenderò l'auto. Vediamo dai, vediamo se sopravvivo. Intanto qualche scorcio ce l'ho. La nostra panda ci ha portato a destinazione. Quella dovrebbe essere la nostra destinazione. Il parcheggiato ovviamente è lontano perché è pieno. Ragazzi, mattone il porto. Ragazzi, il vento è talmente forte che mi sta portando via pure la camera. Ragazzi, non vorrei azzordare, probabilmente è una delle più belle passeggiate che abbia mai fatto. però non è come finita. Vediamo. Come un miraggio veniamo a casa. Speriamo bene. Ragazzi, che meraviglia. Per me va bene così. Sono arrivato a destinazione. Speriamo bene. e anche questa è andata